allora ragazzi eccoci qui per una nuova recensione oggi vi porto uno dei sector che ho comprato all'evento alla gelleria sessa l'evento che abbiamo fatto con ad hoc vi ripeto sempre associazione dell'orologeria campana doc 2022 abbiamo fatto un evento orologi in os dove io ho comprato praticamente se vi vedete il video il video della serata vi lascio il link qua per il video della serata oppure basta che lo cercate sul mio canale io ho comprato 5 sector e ho comprato uno zenith defy una misura da via di mezzo tra femminile e maschile e ho comprato un pulsare tutto in titanio e adesso vi voglio portare questo qua questo qui è un orologio che io stavo cercando già da molto tempo allora c'è da fare una premessa questa qui è la versione al quarzo ed è pure se non è una delle versioni più piccole perché la versione automatica saliva un attimo mi pare di dimensioni comunque abbiamo la versione al quarzo così solo tempo c'è la versione automatica solo tempo c'è la versione al quarzo crono ma che porta i tre crono e poi c'è la versione cronografica con i 77 50 che quella la sarebbe proprio la top 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 io fortunatamente o fortunatamente comunque alla fine ho trovato nos questi qua sono i cartellini dell'epoca ho trovato la versione solo tempo al quarzo che comunque raga mamma mia è spettacolare io praticamente resto innamorato di questo orologio e mi stupisco di come sector poi non abbia continuato su questa linea oltre a questo qua ho preso due crono con un movimento ronda molto belle performante e ho preso un crono col movimento rattrappante movimento veramente molto importante che faceva età e che hanno montato quasi tutte le grandi case c'era da bretling vc l'ha montato young quel movimento movimento addirittura che è al quarzo ma 27 rubini soltanto per farvi capire poi andremo a fare una recensione a parte comunque ho preso questi sei sector quindi ho voglia di portarvi questi sector e col tempo magari cercherò ancora altri modelli importanti e ve li porterò per quanto riguarda il canale ragazzi continuate a seguirmi iscrivetevi se non l'avete mai fatto clic sulla campanella è molto importante e vi chiedo anche di cercare ad hoc 2022 l'associazione dell'orologeria campana che ha portato un evento del genere dove veramente ci sono molte persone poi se vedete il video e soprattutto per la fiera che faremo qui a napoli il 13 e 14 maggio all'hotel cappuccini ci sarà la fiera dell'orologeria campana la fiera che ha fatto ad hoc e saranno presenti ragazzi un sacco di marchi importanti ci saranno un sacco di belle cose da fare mi raccomando ragazzi continuate a seguirci e così vedete tutte le novità vai con la recensione allora ragazzi eccoci qui con il nostro orologio vi faccio vedere i cartellini dell'epoca mamma mia che bellissimi cartellini faceva sector cartellino fatto con un pezzo di pelle e qua addirittura c'è la scritta che recita 390 mila lire questo qua il prezzo che doveva costare poi secondo me col tempo ebbe un aumento anche a 480 mila di considerate che questi orologi costavano intorno a questa cifra per le versioni quelle là al crono e per le versioni quelle là automatiche si andava tranquillamente verso il milione ci sono alcuni crono al quarzo che costano di cartellino 800 mila quasi un milione di lire considerate che io avevo c'è ciò che ho comprato sempre all'evento alla geleria due versioni al quarzo cronografiche che portano vicino al cartellino 790 mila lire ragazzi comunque considerate che erano orologi abbastanza importanti per l'epoca io non so sector che cosa ha combinato col tempo adesso dovrebbe far parte del gruppo morellato però è stata fondata comunque nel 1973 da filippo girdello che praticamente era il nipote di filippo watch che si staccò per fondare sector tra gli anni 90 e 2000 sector ha fatto orologi stupendi oltre a questo qua che vedete che come ho detto c'è la versione cronografica al quarzo ci sono due versioni automatiche solo tempo e cronografica automatica che è stupendo ci sanno molti orologi che loro facevano delle collaborazioni tipo quando si faceva un record di di gare di nuoto oppure un record di gara di canoa un record di appanea record di scalate la sector faceva un orologio dedicato ci sono un sacco di versioni limitate che sono veramente molto belle con colori particolari che comunque diciamo sono state fatte in memoria dei record orologi stupendi io vi voglio far vedere un attimo prima voglio cominciare dalla cassa che vi voglio dire prima le dimensioni abbiamo 36 mm ragazzi 36 mm perfetto 39,2 mm con la corona 42 mm di lag to lag e 8,5 mm di spessore vi voglio far vedere le anse che sono stupende abbiamo anse a ragno ragazzi guardate qua c'è io vi dico la verità se dovessi fare un orologio adesso mio io lo farei sempre al quarzo però con un quarzo buono ma anche come questo che monta questo orologio le nuove versioni io farei un orologio così così come lo vedete se il sector me lo facesse fare io farei un orologio mio cercando di uscire a un prezzo molto competitivo però con questa cassa il base della mia collezione dovrebbe essere un orologio del genere io impazzisco questa cassa abbiamo anse a ragno così poi guardate il copricorona che insegue la cassa sempre diciamo su questa forma qua curvata verso il basso da questa parte ovviamente anzi a ragno guardate com'è bella la cassa che è stondata su tutti i lati ragazzi secondo me è stupendo la protezione per la corona è molto particolare acqua abbiamo una corona a vite ma ci arriviamo dopo vi voglio far vedere un attimo il quadrante da vicino quadrante diciamo bianco perla in effetto molto bello di luce soleil vi voglio far vedere la l'aquila dorata perché voglio ricordare che gli orologi golden eagle portavano l'aquila dorata e in questo caso la scritta sg e dovrebbe stare per sport golden eagle e questo qua è il 100 perché la versione quella la quarzo basica abbiamo la l'aquila dorata qui in alto la scritta che c'è al vetro zaffero 100 metri vedete 330 abbiamo la scritta swiss made qui in basso e tutti gli indici sono applicati la finestra della data guardate non è male abbastanza curata e non lascia intravedere tanto c'è veramente molto bella appoggiata non ci sono spazi vuoti anche se vi dico la verità è una delle c'è forse l'unica cosa che mi non fa impazzire allora non è un orologio dedicato alle immersioni parliamoci chiaro che comunque è un 100 metri anche se ha corona vite e fondello a vite però non c'è pasta luminescente sugli indici e non mi interessa però la data acquara capito la verità non è che mi fa impazzire allora amo la configurazioni la configurazione indici arabo e bastoncini diciamo e indici applicati la adoro è una delle mie configurazioni preferite infatti ci farei un orologio però in questo caso avrei messo la data un pochino più all'interno e e qui magari l'indice ore 3 oppure magari se dovevo avere qui la data avrei preferito un day date vi dico proprio la verità mi dà un senso un pochino più carino e avrei messo la finestra della data in questo caso con una cornice dorata sarebbe stata proprio perfetto comunque abbiamo sfere guardate sempre dorate fatte veramente molto bene bella forma affusolata forma semplice delle sfere e abbiamo tutti gli indici applicati guardate che bellissimo gioco di luci fa questo orologio non c'è da questo che è un os di gioielleria abbiamo il fondello in questo caso c'è la pellicola raga ma vi dico la verità inizialmente l'ho comprato che lo volevo vendere ma sinceramente forse lo tengo quindi la pellicola magari poi la toglierò intanto messi tutti quanti in vendita ma giusto per capire il mercato come si muove su questi orologi ma il mercato raga è difficile su questi orologi vi dico la verità perché non è che se ne avete uno nuovo lo vendete facilmente finché avete gli automatici sì ma i quarsi purtroppo purtroppo c'è tanta ignoranza e i quarsi vengono sempre snobbati però abbiamo un bel fondello a vite abbiamo la scritta registered design qui swiss made abbiamo water resistance 10 atmosfera 10 atmosfere il cristallo zaffero ovviamente ci dice che lsg e 100 e ci dice che comunque è fatto tutto in acciaio perché è fatto tutto in acciaio e al centro abbiamo la nostra bellissima aguila sector sport golden eagle in questo caso abbiamo un movimento al quarzo un movimento che vi faccio vi metto il video qua oppure metto le foto io l'ho aperto nonostante già mai era stato aperto all'evento per metterci la batteria io l'ho riaperto per accertarmi del movimento ed è un età adesso non ce l'ho scritto 955 112 comunque è un bellissimo movimento ragazzi pure esteticamente è fatto molto carino ed è un buon movimento con mia sorpresa sono andato a vedere che su internet il prezzo minore che lo trovate 30 euro solo il movimento e arrivano anche fino a 50 euro quindi considerate che costa questo movimento 30 50 euro costa quasi quanto un nh35 se lo andate a comprare per farvi capire un movimento al quarzo base età 7 rubini è un movimento che è veramente molto molto diciamo bello e sia esteticamente che è anche performante un bel movimento performante quindi comunque ci troviamo di fronte a un movimento affidabilissimo poi abbiamo per concludere vi faccio vedere il cinturino che in questa versione qua raga mamma mia date che bel cinturino in pelle simil diciamo coccodrillo lucerto la maraga mamma mia fatto proprio bene guardate l'aquila qui anche sulla fibbia che spettacolo lo so che posso sembrare troppo di parte in questa recensione ma a me questo orologio mi piaceva moltissimo c'è il nostro amico l'inarrestabile che c'ha la versione automatica quella la crono che quando l'ho vista mi sono innamorato poi fortunatamente all'evento sono riuscito a trovare questo qua solo tempo non c'erano altre versioni raga ma io me lo sono proprio rubato guardate al pulso questi 36 mm come sono bello cinturino è un pochino giusto per me è considerare però che comunque ho il pulso che va oltre 19 mi sarebbe piaciuto abbottonarlo qua ma vi dico la verità probabilmente conserverò il cinturino originale e comprerò un cinturino da parte proprio apposta per me andate che vestibilità spettacolare comunque nei prossimi giorni vi porterò gli altri orologi di cui abbiamo un altro solo tempo con una cassa che sono sempre magnifica e che io farei sempre in una mia collezione e poi abbiamo i crono ci sono un crono rattrappante che bello importante e poi ci sono altri due crono che secondo me erano spettacolari colori che ho preso che pure montano dei movimenti che non costano poco dentro al fatto che comunque sector lavorava veramente molto bene ragazzi continuate a seguirmi e vi raccomando cercate anche l'associazione ad hoc 2022 ci vediamo al prossimo video ciao